Ancora a decessi tra le persone anziane positive al Covid-19 a Torre del Greco, dove nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 4 vittime. A comunicarlo il sindaco Giovanni Palumba, che ha fatto sapere come abbiano perso la vita cittadini di 80 anni, 87, di 77, di 75 anni. Per gli ultimi 3 la positività è stata accertata solo dopo il decesso. Sali così a 113 il numero delle persone morte da inizio pandemia. Resta grave anche la situazione dei contagi, un'emergenza che ha indotto il primo cittadino a rafforzare i controlli contro gli assembramenti e per il rispetto delle norme in vigore. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi segnalati da Asla Napoli 3 Sud e unità di crisi sono stati 18, a dispetto di 5 guarigioni. Dati questi che portano il numero complessivo degli attuali positivi a quota 967, con 55 soggetti che risultano ospedalizzati. Un morto ha anche a Torre Annunziata. Si tratta di un uomo di 75 anni. Sono 28 invece i nuovi casi di contagio a fronte ai 242 tamponi effettuati, con l'indice di positività che si attesta all'11,57%. Al contempo si registrano anche 63 guarigioni. Scende a 757 il numero dei cittadini attualmente positivi, di cui 40 con la cosiddetta variante inglese. Stabile la situazione anche a Dercolano, con 34 nuovi positivi a fronte ai 12 nuovi guariti. In totale al momento si registrano 438 cittadini positivi, 41 dei quali con variante inglese, mentre i guariti sono in totale 2239. Boom di contagio invece a Castellammare di Stabbia, dove sono 151 i cittadini risultati positivi nella giornata di ieri. Tra i nuovi contagiati ci sono 12 bambini, tra i 2 e i 9 anni, 20 ragazzi tra i 10 e i 17 anni ed 8 persone tra i 82 e i 92 anni. Sono stati lavorati complessivamente 644 tamponi, 18 invece i guariti.